Musica Chi è quello? Viene dalla Prussia. So che studia il Vaticano, ma le sue parole paiono alquanto inadatte a quel luogo. Qualcuno vi dirà di accontentarvi della teoria celeste di Tolomeo. Con le sue contorsioni matematiche di sfere danzanti intorno alla Terra. Ma perché ricorrere a formule tanto complesse, se non per nascondere una miriade di contraddizioni? Una logica errata va messa in discussione. Perciò viviamo, per porci domande. Uccidetelo in fretta. Il Signore vuole che tutti gli studiosi siano morti entrosera. Se c'entrano i Borgia, centro anch'io. Perciò viviamo. Perciò viviamo in fretta. Perciò viviamo. Perciò viviamo. Siamo in fretta. no 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 voglio restare le porte sì no vieni non uccidetevi vieni 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 via buona edizione vieni vieni while vieni vieni Grazie a tutti.